Ciao ragazzi, mi chiamo Elisa, mi sono laureata nel 2017 all'Università dell'Insubria in Scienze e Tecnologie Biologiche. Il corso di laurea triennale mi ha permesso di avere una formazione tutto tondo che poi è stata molto utile quando nella laurea magistrale ho approfondito molti dei temi trattati. In particolare la laurea magistrale l'ho scelta per diversi motivi. Prima di tutto gli insegnamenti sono in lingua inglese, in più si può scegliere tra tre diversi indirizzi e io ho scelto l'indirizzo Double Degree che permette di seguire un anno in Italia e un anno in Germania. Questa formazione mi ha permesso sicuramente di avere un profilo interessante a livello lavorativo e oggi mi occupo di consulenza per aziende farmaceutiche. Se avete domande o curiosità potete contattarmi chiedendo i miei riferimenti alla professoressa Kilstroop e buono studio ragazzi!